Ci troviamo nel cortile del maschio angioino di Napoli e parliamo con Pietro Luppi in una pausa del congresso che sancisce la nascita della Rete ONU, Rete Nazionale Operatori dell'Usato, che comprende cooperative sociali, enti di solidarietà, case madri franchising conto terzi, botteghe di ricatteria, librerie dell'usato, mercati storici, fiere e anche rovistatori rom dei cassonetti. Tutto quello che è seconda mano? Tutto l'usato è rappresentato dentro la Rete ONU per quanto riguarda beni durevoli. Voi siete quelli che portano via posti di lavoro al commercio tradizionale, alla produzione di oggetti nuovi? Garantendo però allo stesso tempo i livelli occupazionali più alti. Come più alti? Nel momento che tu fai riparazione stai conferendo un valore aggiunto a un bene attraverso l'impiego di posti di lavoro e riducendo allo stesso tempo il deficit commerciale con l'estero, ovvero è ricchezza, sono posti di lavoro che si generano a livello locale, non si tratta di beni nuovi e importati come succede sempre più spesso dall'estero, da paesi extraeuropei, non si tratta di materie prime. Questo settore come si potrebbe espandere? Il settore gode di una domanda finale che è molto lontana da saturazione, però è in crisi per l'assenza di un'offerta intermedia, è difficile trovare le merci usate, gli svuota cantine vanno con la loro app per cantina in cantina, garage in garage in cerca di pochi oggetti, il conto terzi va di casa in casa valutando oggetti e cercando di portare nel negozio il più possibile, però la maggior parte dei beni usati si trova nel flusso dei rifiuti urbani, se si riuscisse a rimettere in circolazione la grandissima quantità di beni usabili che impropriamente... Cioè nei cassonetti delle nostre aziende dei rifiuti vanno a finire molte cose che sarebbero aggiustabili e vendibili. Nei cassonetti della città di Roma sono presenti non meno di 33 milioni di Euro di merce ogni anno che vengono invece smaltite in discarica a caro prezzo. E cosa dovrebbe fare? Bisognerebbe rimetterli in circolazione, creare un'offerta intermedia, venderli agli operatori dell'usato che sono smaniosi di poterli acquistare.